Buongiorno a tutti ragazzi, spero che vada tutto bene. La settimana scorsa abbiamo visto uno Stato molto grande, uno dei più grandi sia dal punto di vista territoriale che dal punto di vista dell'importanza politica e economica d'Europa, ossia la Francia. Questa settimana vedremo due Stati più piccoli, uno in modo particolare davvero piccolissimo, ma comunque importanti e conosciuti. Il primo, quello appunto piccolissimo, è il Principato di Monaco. Forse ne avete già sentito parlare, immagino di sì, perché comunque è un luogo conosciuto di cui si parla spesso, c'è anche il famoso Gran Premio di Formula 1, ma in realtà il Principato di Monaco è uno Stato piccolissimo. Pensate che è lo Stato più piccolo del mondo dopo la città del Vaticano. si trova a sud della Francia, guardando la cartina della Francia la trovereste proprio a sud sul mare, e ha in realtà un rapporto molto stretto con la Francia. Ancora oggi la Francia, infatti, ha il diritto di proporre i candidati a Ministro di Stato e sotto l'autorità del Principe il Ministro di Stato è colui che esercita il potere esecutivo, che esercita il governo. Abbiamo detto Principato, abbiamo detto Principe, perché appunto in realtà Monaco è un Principato, è di possesso della famiglia Grimaldi, i Principi Grimaldi di Monaco, che controllano questo territorio dal lontano 1297, di padre in figlio. Essendo uno Stato così piccolo, Monaco rientra nel territorio doganale francese. Questo significa che voi potete entrare, uscire liberamente dalla Francia a Monaco senza trovare nessun tipo di dogana, un po' come andare dall'Italia a San Marino. E questo significa che a Monaco c'è l'euro come moneta, quindi Monaco è nell'area euro pur non essendo nell'Unione Europea. Questo perché inevitabilmente, avendo l'euro come moneta, rientrano nell'area euro anche senza aver firmato nessun tipo di trattato per il loro ingresso nell'Unione. Per quanto riguarda la popolazione e l'economia, bisogna dire che ha una densità abitativa altissima. Pensate che ha una densità di 18.000 abitanti per chilometro quadrato. Calcolate che l'Italia ha 200 abitanti per chilometro quadrato, la Francia ne ha 120. Francia 120, Monaco, principato di Monaco, 18.000. Una differenza enorme, ma del resto, guardando la fotografia che vi ho messo qui o anche tante altre fotografie che potete trovare online, vedete quanti palazzi ci sono e quindi quante persone inevitabilmente vivono qui. L'altra caratteristica che forse già conoscete di Monaco e che sicuramente vedrete in questa foto è il fatto che gli abitanti sono quasi tutte persone molto ricche. Vedete quanti motoscafi, quanti yacht e come quei palazzi siano palazzi certo non di una città del terzo mondo. In effetti pensate che la maggioranza dei residenti, 24.000 su 36.400, la maggioranza dei residenti sono in realtà stranieri. Come mai questi stranieri vanno a stare a Monaco? Anche perché non sono stranieri e basta, sono stranieri ricchissimi. Non troverete mai l'immigrato che arriva dall'Africa. Stranieri ricchissimi che decidono di andare a vivere a Monaco perché per chi vive a Monaco c'è un regime fiscale molto favorevole. Cosa significa questo? Significa che se tu vivi lì paghi pochissime tasse. Per questo motivo tanti personaggi anche famosi del mondo dello spettacolo, del mondo della musica hanno deciso di trasferirsi a Monaco perché in questo modo pagano pochissime tasse e vivono in un luogo molto bello. Lo Stato però, grazie anche a queste pochissime tasse, riesce a vivere e a vivere in maniera molto dignitosa. Del resto le spese per un territorio così piccolo sono davvero pochissime. L'economia quindi si basa da un lato sul turismo, quindi sulle persone che ogni anno vanno a Monaco per visitarlo, per vederlo. E poi sulle attività bancarie perché tutti questi ricconi mettono i loro soldi nelle banche di Monaco e quindi queste banche sono ricchissime, hanno nei loro depositi tutti i soldi di movimenti virtuali, non dobbiamo immaginare le monete d'oro di paperone, ma nel modo virtuale hanno tutte queste enormi ricchezze e quindi lo Stato di Monaco riesce a portare avanti in maniera molto fiorente la sua economia. Spero tutto chiaro.